Per la settima giornata del campionato Under-15 di Elite si affrontano Trastevere e Civitavecchia. Ci prova subito il Trastevere a rendersi pericoloso in avanti con la prima occasione del match. Protagonista il numero 10 della formazione di casa, Vettere. Il pallone arriva a lui che prova con il sinistro, palla abbondantemente a lato. Ancora Trastevere in avanti, ci prova Cucci su assist di Vettere, palla alta sulla travezza e nulla di fatto. Ancora Trastevere pericoloso nel finale del primo tempo, sempre in avanti la formazione di casa. Ci prova Moxedano dalla distanza, nessun problema per l'estremo difensore ospite. Nella ripresa arriva il gol del Trastevere, il primo lo mette a segno, il numero 10 Vettere con un tiro a giro sul secondo palo. Gol del vantaggio del Trastevere. Inizia a piovere copiosamente al Trastevere Stadium ed arriva il secondo gol al ventitresimo. Guardate la clamorosa battuta da parte del difensore Tontoli dalla distanza, addirittura la prova a metà campo. Sorprende l'estremo difensore avversario, ingannato anche dalla pioggia caduta sul terreno. Incredibile gol del 2-0. Nel finale al 35esimo arriva anche la terza marcatura. Il cross di Moxedano dalla destra per Pallotta che sotto misura mette dentro il gol del definitivo 3-0.